amici di g case buongiorno buongiorno e bentrovati lunedì 26 febbraio eccoci qua oggi vi porto nella neve di spiazzi di gromo per un'anteprima esclusiva vi mostro questa villetta in anteprima esclusiva non ancora in pubblicità quindi non cercatela sul nostro canale www.g case.it perché guardate trapinette meravigliose eccoci qua nella neve di spiazzi di gromo e io ho il piacere vedete i pullman che arrivano vi ricordo che qua a neanche un chilometro ci sono le piste da sci di spiazzi gromo e quindi vi invito anche a venirvi a godere questa fine dell'inverno con questa meravigliosa neve che il meteo ci sta regalando in questi giorni oggi c'è un momento di tregua e quindi eccoci qua a fare questa diretta allora l'ingresso principale è dal piano primo poi c'è la parte sottotetto e questa parte dove entreremo che è utilizzata come zona giorno vi ricordo che questa villetta l'avrete visto nella copertina ma viene venduta col box poi finiremo nel box e ve lo faccio vedere dopo tranquilli a 135 mila euro quindi davvero una cosa davvero interessante per voi che state cercando qualcosa ad una quota davvero ottima qui siamo a 950 metri di altitudine le piste sono su a 1100 quindi siamo in una posizione davvero molto interessante eccoci qua quindi vi ricordo che avremo anche una zona giardino molto ampia intanto vi faccio vedere che anche questa parte è di proprietà adesso ha nevicato quindi viene nascosta parecchio dalla neve ma vi farò vedere anche il giardino davvero un giardino molto grande quindi una villetta cielo terra a 135 mila gli spiazzi di gromo venite con me entriamo qui nella nel reparto chiamiamolo taverna una zona taverna guardate che ampio spazio c'è e devo dire che anche arredata con gusto quindi qua adesso abbiamo anche una stufa che ci accoglie vi ricordo che c'è il riscaldamento autonomo metano qui abbiamo due divani addirittura anche se magari il secondo divano è troppo quello è un divano letto poi vi farò vedere sia il piano primo che il sottotetto eccoci qua a questa bellissima zona cucina una cucina davvero interessante mai abitata noi adesso l'abbiamo allestita sapete che facciamo anche un po di home staging per mettere in scena un po la nostra casa ecco qua una bellissima cassa panca uno spazio davvero enorme spero che si percepiscano nonostante il grand'angolo che siamo in una in una zona davvero molto comoda quindi villetta su tre piani questo è il piano che si entra direttamente dalla zona box con questa cucina vi faccio vedere anche il retro il retro non è altro che un ripostiglio è perché è una lavanderia ripostiglio guardate il casino che c'è in questa lavanderia e poi anche il bagnetto quindi con la scalda salviette il bagnettino diciamo per la zona di questa taverna molto interessante loro hanno scelto di mettere il costruttore insomma scelto di mettere la cucina proprio in questa posizione proprio per godersi di una zona molto ampia perché qua come vedete siamo assolutamente fuori terra eccoci qua è come se fosse a tutti gli effetti un piano terra non un semi interrato ok adesso saliamo seguite con me seguitemi andiamo su questa scala e andiamo nel reparto intermedio nel piano intermedio come vedete ci sono delle solette in getto quindi non in legno ecco qua una pavimentazione in grass forcellanato lì c'è la caldaia sappiate che dietro questa perlinatura ci sono c'è tutta la predisposizione per una un'eventuale seconda cucina e invece di qua arriviamo nella zona bagno questo il bagno principale vedete che c'è la doccia il vater il bidet un bel lavandino molto ben finestrata e questa è la camera la camera matrimoniale vedete che bella con questo armadione dalla camera ora vi farò vedere si esce anche la luce della neve fa fa sfarfallare adesso questo qua è tutto il giardino adesso poi esco ve lo faccio vedere comunque è molto molto ampio adesso usciremo arriva su fino alla siepe quindi riuscirò a mostrarvelo senza problemi venite con me ecco qua che si vede la scala eccoci qua in questa zona giochi diciamo avete che c'è un biliardino e però potrebbe essere un'altra cucina quindi la una seconda cucina o comunque una zona pranzo ulteriore se non si vuole andare giù da basso quindi questo potrebbe essere utilizzato davvero come una zona giorno tradizionale al piano come vedete la scala poi prosegue va su nel sottotetto poi ve lo faccio vedere con più calma adesso però voglio farvi vedere il grande giardino prima di andare nel reparto sottotetto eccoci qua innanzitutto a questa questa vista straordinaria che poi quando c'è la neve acquisisce ancor più interesse ancor più fascino devo dire che le piste sono proprio qua dietro quindi stiamo parlando di un luogo assolutamente magico allora facendo questi quattro gradini si arriva alla zona alla zona giardino perché il box è qua sotto poi ve lo faccio vedere ed eccolo qua il grande giardino giardino segue tutta guardate il dito eccolo lì segue tutta la recinzione e va su fino in cima mi piace anche calpestarla la neve sto calpestando guardate che bello mi piace affondare nella neve e farvi vedere il giardino che fa tutto il percorso seguendo poi la rete questo è un albero di natale pronto per essere allestito anche se è davvero molto grande ma guardate i pini che ci sono qua a spiazza di gromo spero spero che riusciate a comprendere la meraviglia da qua riesco anche allontanandomi un attimo nella neve a farvi vedere com'è interessante la villetta guardate che carina tutta in pietra davvero davvero molto interessante mi sposto ancora un po indietro per farvelo vedere la sua interezza quella qua che aria meravigliosa c'è si respira davvero un'aria spettacolare guardate anche il tetto come come bello come ben coibentato stiamo parlando di costruzioni assolutamente recentissime lì c'è la presa della dell'acqua per per la canna dell'acqua per i vostri fiori spero che possiate venire qua e goderne guardate intanto le mie impronte eccole qui che meraviglia e ritorniamo verso l'ingresso della villetta lì in questo villaggio in via a monte redondo qualcuno di voi ha già comprato quindi conoscerà siamo proprio qui a buario spiazzi posizione davvero unica riscendiamo sul terrazzo d'ingresso perché poi questa villetta come avete capito a un ingresso da sotto dove che avete visto con me in diretta oppure a questa serratura a questo ingresso come vedete con questi antoni ora venite con me che andiamo nel reparto sottotetto eccoci qua saliamo ora al piano sottotetto quindi già c'è una camera lì c'è tutta la zona tavernata poi qua eccoci con il parquet a terra un vero parquet non è un laminato una zona sottotetto bellissima tra l'altro con la finestra come vedete qua e anche da questa parte addirittura con un abbaino un abbaino che dà davvero fascino ti dà proprio la sensazione della montagna guardate che meraviglia quindi un letto matrimoniale due lettini un altro letto matrimoniale guardate la vista che c'è ecco qua il giardino che prima abbiamo calpestato e la neve di spiazza di grono eccoci qua guardate che meraviglia di villetta vi ricordo a 135 mila euro arredata compresa di box quindi chiamateci è 0 3 4 6 2 3 9 3 3 o al mio cellulare 320 0 3 3 4 3 3 2 ora andiamo perché voglio farvi vedere anche il box venite eccoci qua calpestiamo ancora un pochino la neve sta meraviglia di neve e portiamoci alla zona ingresso là come vedete c'è un cancello carrale d'ingresso e qua eccolo il box primo il box proprio sotto la villetta praticamente ed è un box davvero comodo ora non riesco a darvi le misure esatte ma supera la larghezza assolutamente dei 2 metri e 70 ed è assolutamente almeno 5 metri e 50 guardate che meraviglia grazie grazie a tutti voi per essere sempre presenti e per scriverci e per darci sempre di più la voglia di farvi entrare nelle nostre case oggi vi ho mostrato in anteprima esclusiva una villetta cielo terra 135 mila euro qui agli spiatti di gromo quindi nella località scistica che avete cominciato a conoscere anzi vi invito a continuare a conoscerla perché come vedete c'è neve a terra quindi cosa c'è di più bello che la neve a terra in queste zone meravigliose di montagna un caloroso saluto da stefano e da tutto lo staff di cade grazie a tutti